Ciao a tutti, bentornati qui sul mio canale. Dopo la lunga pausa estiva riparte la nuova stagione. Ecco quali saranno gli appuntamenti. Ogni lunedì accadde oggi, quindi andremo a vedere che cosa accade negli anni 90-2000 nel periodo storico che stiamo vivendo. Le cover negli anni 90-2000, quindi andremo a vedere quei brani degli anni 90-2000 che sono cover di brani degli anni precedenti. Le canzoni dance, techno e trance nei film e negli spot pubblicitari degli anni 90-2000. E poi anche l'appuntamento con anni 90-2000 versus oggi, quindi andremo a vedere le differenze tra gli anni 90-2000 e oggi dal punto di vista della musica, del mondo della notte, degli usi e dei costumi. E molto altro ancora. Poi ogni mercoledì le pillole anni 90-2000, quindi vi racconterò le discoteche, gli after hour e i fuori orario, ma anche le compilation, i programmi televisivi e le radio degli anni 90-2000. E poi ogni venerdì l'appuntamento DJ Piazza in The Mix 92.000, quindi un venerdì dedicato alla dance, Italo Dance e Eurodance, un venerdì dedicato alla techno, trance, progressive, early style e early hardcore. E un venerdì dedicato all'house, underground e easy house. E poi l'ultimo venerdì del mese, a partire dal mese di ottobre, Brave Dance Now, quindi 5 canzoni dance nuove, oppure DJ Piazza Lab, quindi 4 mie sperimentazioni musicali, produzioni, mashup, remix, bootleg e via di seguito. Ogni domenica l'appuntamento con Heavy Rotation 92.000, quindi 8 ore di rotazione video musicale con il meglio della progressive, techno, trance, early style, early hardcore e la dance più dura. E poi non perdetevi gli appuntamenti speciali, il 31 ottobre con l'Halloween Progressivo, l'8 dicembre con l'Immacolata Progressiva e poi il 31 dicembre con la classifica finale del DJ Piazza in The Mix con i brani più votati da voi. Come sempre verso metà novembre, fine novembre, aprirò un sondaggio suddiviso per la dance, techno e house, quindi voi voterete i vostri brani preferiti a Natinonda nel DJ Piazza in The Mix per quello che riguarda la dance, la techno e l'house. E poi il 31 dicembre ci sarà la classifica finale suddivisa appunto in queste tre parti dove andremo a vedere quindi quali sono i brani più votati da voi. Quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e ci vediamo su questi schermi. A presto!